Prof, i risultati del test? Caro Teddy, tu sei dislessico. E hai la discalculia. E lo sapevo. Non è tutto. Hai anche un deficit cognitivo. Senta, io non sarò un fulmine di guerra. Deficiente però mi pare un po' troppo. Mio Dio. Qui alla scuola serale concentreremo quattro anni di liceo in un semestre. Gruppo di studio! Gruppo di studio! Gruppo di studio! Credo che la madre l'abbia cresciuto a birra. I metodi convenzionali non vanno bene. Perché siamo sul ring? La radice quadrata di 81. Cosa? La radice quadrata di 81. Non so di che cosa parlo! La radice quadrata! Dio! Questa donna è un vero muro. Passate l'esame o siete fuori dalla mia classe. Dobbiamo rubare il test. Vuoi spiegarmi perché hai fatto tutto giusto? Ma io so che non ho fatto tutto giusto. perché ho sbagliato di proposito. Spione coglione! Che c'è? Vado al lavoro! Venite a provare il pollo del signore! Teddy, il tuo costume è davvero da scemo. È il lavoro giusto per me. Un fast food vicino a uno strip club. Se mi metto nel punto giusto, sento l'odore di burro di cacao e pollo fritto allo stesso tempo. Togliti il costume e vieni a far l'esame! Volete prendere il diploma? Sì! Togliti di mezzo! Ciao, bello! Sei pronto? Io non voglio giocare. Capitale della Germania. Grafen? Cosa? Risposta sbagliata! Piagli qui! Ora stai esagerando. L'acqua è composta da... Pioggia! Concentrati! È un gas! Oddio! Due parti di idrogeno e una parte di ossigeno! Ce l'hai fatta, Teddy! Ma cos'è questo odore? Questo è un gas. Mi ha scoreggiato in faccia! Ce l'ho in bocca! Mi ha fatto scripolare le labbra! Mi ha scoreggiato in faccia! 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 Mi ha scoreggiato in faccia!